Qual è la fotografia che anche voi riscontrate? È una fotografia buia purtroppo, sta picchiando su tutte le famiglie, picchia sulle imprese, ricordiamoci che a Catena il caro energia, il caro carburanti, porta e trascina con sé il rialzo di tutti i beni, anche perché noi abbiamo incentrato tutti i nostri trasporti, ormai sono 50 anni da prima, storico ormai, e esiste il trasporto merci su gomma, esclusivamente su gomma direi, e quindi ovviamente il caro carburanti che sostengono gli autotrasportatori viene riversato poi dopo nel prezzo finale e il conto salatissimo lo pagano infine i consumatori e le famiglie. Famiglie che vedono il carrello della spesa lievitare, ma non da un mese all'altro, da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro, quando gli stipendi sono gli stessi, quando gli stipendi sono insufficienti, ricordiamoci che abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, siamo i paesi che lavorano di più come carico lavorativo, se guardiamo la media del carico lavorativo, ma nonostante questo gli stipendi più bassi d'Europa, e lo vediamo ora nelle località di mare, il pieno c'è, ma degli stranieri. Gli italiani stanno a casa, io ho sentito anche molti miei conoscenti, purtroppo hanno dovuto tagliare. quello che è il giusto riposo dopo un anno di fatiche, di cose non belle anche, perché il caro energia ha colpito tutti e le persone sono state costrette a stare a casa. Feder Consumatori auspica che ci siano maggiori controlli. Il famoso mister prezzi deve essere molto più incisivo, la guardia di finanza bene, ma molto di più, e poi infine il grosso tema delle accise, che aumentano percentualmente, ricordiamoci, aumenta il costo, speculazione, sì, ma aumenta anche il gettito fiscale, perché aumentano assolutamente le accise. Trovo un pochino fuori luogo, forse poteva esprimersi meglio il ministro quando ci dice che al netto delle accise è in linea, eh sì, ma ci sono le accise. Insomma, non è concepibile, cioè noi da tanto che lo diciamo va assolutamente riformato il tema delle accise, non è possibile continuare a pagare ancora la guerra d'Etiopia. Vanno ristrutturate assolutamente, vanno abbassate, non è vero che non si possano abbassare, vanno abbassate. Vanno abbassate come misura tampone? Sì, assolutamente, noi riteniamo che vadano abbassate, comunque vadano sterilizzate temporaneamente le accise. E dopodiché deve rientrare veramente in un sistema, in una nuova concezione, una nuova riforma fiscale che non gravi in maniera spalmandosi indifferentemente su tutte le famiglie, ma colpisca, perché ricordiamoci, chi più ha, più deve mettere a disposizione della comunità. E questo è il passaggio che deve, è il messaggio che voglio assolutamente che passi. Chi più ha avuto dalla società, più deve dare, deve restituire. Grazie. Grazie.